Ciao ragazze, oggi è arrivato il pacco dell'amon, scusate se mi rendete un po' così ma non sto tanto bene un po' di influenza, però ci tenevo a farvi vedere i pacchi. Ne sono arrivati tre, uno bello pesante, gli altri più un po' più leggeri, però tutti abbastanza grossi. Inizio con il più pesante, questa bestia qui. Allora, dentro c'erano i nuovi cataloghi Avon di campagna 14 con le offerte per noi presentatrici, poi Avon anteprima di campagna 15, da ordinare in campagna 13. Poi, fantastico, sono arrivati, io li avevo già aperti e come potete vedere uno è già finito in mano a mia nipote. Questo lo perdo io. Comunque sono arrivati i cataloghi di supplemento di Natale. Ci sono delle belle offerte, carine, vi ho già dato un'occhiata, alcune sono le stesse che ci sono sul catalogo. Altre invece sono nuove e le belle. Sono contenta. Ne sono arrivati diversi. Poi, un bel po' di cataloghi di campagna 14. Non riesco neanche a parlare, vabbè non è una novità. Poi, altri cataloghi di supplemento. Altri cataloghi di campagna 14. Ok. Allora, passiamo subito con i prodotti. Allora, mi è arrivato questo vestito qua, che è quello che si può indossare in cinque modi diversi. Questo l'ha ordinato l'odio amico, ma è arrivato. Poi, mi è arrivata questa mega crema qui, da 400 ml, della Avon Care. Poi, sempre della Avon Care, mi sono arrivate queste due creme, sono tutte per il corpo. Della stessa linea, quelle con aloe vera e camomilla, sempre da 400 ml. Poi, un bagno schiuma per i bimbi. Questo qui ha l'anguria da 250 ml. Poi, uno shampoo e un balsamo della linea Avon Technique, quelli all'olio d'argan. Poi, altri cataloghi, però questi sono di campagna 12, quella della campagna di Natale, che vi ho già fatto vedere in un video. Poi, una crema, questa qui, con l'edizione natalizia. Questa è quella alla glicerina, questa qui, da 100 ml. Poi, quattro creme dell'Avon Foodworks. Tre sono le creme, no, queste due sono le e tutto in uno. Così, qui. Quindi, ammorbidisce, idrata e profuma. Poi, questa è una crema da notte rigenerante e questa qui, invece, è una crema di odorante giornaliera. Queste qui, da 300 ml. E questi qui sono ottimi. Io li uso e veramente sono fantastici. Poi, due creme della Solution, queste qui, una da giorno e una da notte. Vi faccio vedere il contenitore. Fatto così, molto carino. Sono uguali, quindi ve ne faccio vedere solo una, questa, questa è quella da notte. Poi, mi è arrivato un eyeliner, quello della linea Super Shock, un colore, mi sembra nero. Sono oggi corto. Sì, è nero. Questo qui. Adesso non ve lo posso aprire perché non è per me. Quindi, io, massimo che faccio vedere quando non sono per me sono le, diciamo, le confezioni. Poi, questo qui, il detergente 3 in 1 della Monker. Poi, una matita della Glimmer Stick Diamond nel colore Twilight Sparkle. che è questo colore qui. Poi, un pennellino d'eyeliner. Questi qua, con il taglio, diciamo, pubblico. Poi, un balsamo labbra della linea Enio. Questo, se non sbaglio, me l'ha preso la mia mamma, ma non lo sono sicura. Questo è il packaging. Essendo che non sono sicura se è quello di mia mamma o no, non ve lo apro. Quando evitare, sapete. Poi, un fondotinta della Calming Effect, colore Warmest Beige. Questo qui. Poi, le perle di terra solare nel color Warmest Beige. Poi, questo che cos'è? Set Beautiful View. Questo, non mi ricordo. Ah, sì, questo qui l'ha presa la mia migliore. Saretta. Saretta. Lei è su YouTube, quindi se vanno a travedere, Dori Saretta 91. Ok, ho già aperto al contrario, fantastico. Allora, nel cassettino in basso ci sono gli orecchini. E qua sopra i ciondri per la collana. Molto, molto bello. Poi, ultima cosina di questo pacco è questo giocciaccio della Sensil, il Sparkling. Questo qui, da 250 ml. Non ho mai sentita questa profumazione, però non è per me, quindi non voglio aprirla. Penso che mi possiate capire. E poi, vabbè, la tattura. Ok. Aiuto. Passiamo al secondo pacco. Allora, il primo progettino è questo qui. Questo l'ho preso per me, quindi ve lo posso far vedere. Se si apre, ok. Perché, per chi ha visto il mio video sul tour della mia camera, ha visto che io uso come portorecchini il copri termoscone, solo che anche quello prima o poi finisce. E siccome sta finendo, ho voluto prendere questo portorecchini qua, che mi è piaciuto tantissimo. Non è grandissimo, però è fatto così, a forma di labbra, con tutti i buchini da mettere le cosine, gli orecchini. Vedete, si presenta così, su un mobile sta bene, anche carino, con il brillantino qua, carinissimo. Poi, mi sono arrivate queste pantoffole da casa, quelle con gli stivaletti, con questo colore qui. Non sono per me, quindi non ve le posso far vedere. Poi, mi sono arrivati questi stivaletti qua. Questi sono per una mia amica, Michela, quella che avete visto anche qua, quindi penso che non abbia nulla in contrario se li apro e ve li faccio vedere, giusto per avere un'idea. Sono fatti così, questi qua, che a lei piacciono da morire, a me non mi piacciono per niente. I dischi sono questi. Poi, quando ho un'idea d'ordine, c'era un... cioè sono delle offerte per noi, e c'erano questi forza spazzole, pinze, sia da viaggio che non, fatti così e ne ho ordinati un po', perché sembra che sia di cima a Natale, per fare i regali vanno bene. Ve le faccio vedere uno. Molto semplici, sono delle classiche buste. Adesso sono tutto completamente schiacciate, però, vedete, non ve l'ho visto così, si mette... anche per andare in vacanza, così per tenere le spazzole o le pinze protette nel beauty, secondo me questi vanno benissimo. Ne ho ordinati sette, mi pare. Poi, mi è arrivata questa... questo già rivitalizzante per il viso della Planet Spa. dice da 30 ml, è sigillato, quindi non posso neanche far vedere l'interno. Poi, mi sono arrivati altri tre bagnoschiuma della Senses, il Reflection, il Lamazon e il Lagoon. Questo qui non l'ho mai sentito, quindi non mi so dire, ma questi due qui sono veramente buonissimi. Io, soprattutto il Reflection, lo adoro. Poi, mi sono arrivati... Ciondolo Christmas... Ah sì, questo qui l'avevo preso, ve lo faccio vedere. Questo era troppo, troppo carino. Questo ciondolino qui... Troppo carino. E non so se darlo come regalo durante i miei incontri Avon con le mie clienti, oppure se invece darlo a voi dovrò ancora pensarci. Se vi piace vedrò, ditemelo che magari potrebbe essere vostro, chi lo sa. Poi, questo qui è Sette Ciondoli Girl Best Friend. Ed è questo qui. Sono questi tre ciondoli charms. Bellissimi con la borsetta, la scarpa e un brillantino. Molto, molto belli. Poi anche la confezioncina, guardate che bella. Poi, ultime due cosine di questo pacco sono... Questo trattamento senza risciacqua della Trans Technique. e poi questo pennello con la cipria già al suo interno, fatto così. Non ve lo posso aprire, però è un pennello. E questo era il contenuto del secondo pacco. Passiamo al terzo pacco, che questo è più piccolino, vedete. E allora... Come primo prodotto abbiamo questo qui, che è un orologio. Lo faccio vedere. Questo così. Molto, molto carino. Veramente bello. Adesso poi, con calma lo metterò bene. Poi... Questo qui, che sarà per una di voi. È un profumo. Sarà... Potrebbe essere... Sarà, sì, dai. Diciamo. Sarà uno dei premi del prossimo giveaway di Natale. Poi, una palette della True Color. Adesso vi faccio vedere i colori. Questi colori qua. Molto, molto, molto belli. Poi, altri set di gioiellini. Questo è orecchini Brinkstone Agosto. Sono quegli orecchini in cui c'erano tutti i mesi del proprio compleanno. E mi sono arrivati quelli di Agosto, che sono di questo bellissimo verde. Poi, mi sono arrivati questo set di anelli Cain. Questi, non mi ricordo se li ha presi la mia migliore amica, Sara o Giorgio, una delle due. Comunque, sono questi tre amiglini qua, molto carini. Anche abbastanza stretti. Contate che io ho un 5. E mi vanno bene qua. Qua, sì, infatti. Molto, molto belli. Mi sa che il prossimo ordine potrei prendermeli anch'io. Sono veramente bellissimi. Poi, questo è orecchini Ungaro Parisienne Bloom. E sono questi qua. Molto belli. Anche questi li chiudo dopo, se no ci metto più a chiedere le cose che a fare il resto. Collana Empowerment. Che è quella con il maestrino della solidarietà per la violenza contro le donne. Molto carina. Poi, mi è arrivato questo rossettino qui. Che l'ho preso furca per me. E mi sa che lo prenderò poi anche per voi per il prossimo giveaway. E questo qui, vi faccio vedere lo swatch. Questo è lo swatch. Qua c'è il rossetto e qua il gloss. Molto carini. Molto, molto. Mi piace, mi piace, mi piace. Mi piace. Poi, un mascara della Super Shock nella nuova linea. Nuova linea. Nella edizione limitata, quella di Natale. Questo qui. Poi, della Planet Spa. Maschera per il viso all'argilla. Questa qui. Poi, questo spray per il corpo profumato. Allo zucchero, prugna e vaniglia. L'ho preso per me. Non avevo letto che c'era anche la vaniglia. Quindi se no, non l'avrei preso perché io essendoci allergica. Però, per fortuna, non si sente per niente la vaniglia. Quindi io non dovrei stare male usandolo. Perché io sto male solo se ne sento l'odore. O se la mangio. Ultimo prodottino è questo pigiano qui. Di Tupolino. L'ho preso per il mio nipotino. Guardate che carino. Bellissimo. Troppo carino. E niente, ragazze. Questi erano i pacchi. E i prodotti che mi erano stati ordinati. A breve farò anche il video del supplemento. Del supplemento e anche poi in seguito del catalogo. Farò prima quello del supplemento e poi del catalogo. Visto che il supplemento è valido adesso. Probabilmente lo girerò subito e immediatamente dopo questo video. Io vi mando un bacione. E alla prossima, ragazze. Ciao! Ciao! Ciao!